Ciao a tutti! Oggi prepareremo il frappè di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti. Gli ingredienti sono latte, ghiaccio, fragole e zucchero. Andiamo a preparare la ricetta. Inseriamo nel boccale lo zucchero. E polverizziamo 10 secondi, velocità 10. Uniamo adesso le fragole e il ghiaccio. Chiudiamo. 20 secondi, velocità 8. Adesso inseriamo la farfalla e versiamo il latte. Chiudiamo. E andiamo a montare 2 minuti a velocità 3. Bene, il frappè è pronto. Andiamo a riempire un bicchiere. Frappè alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.